lanciato la live Buonasera a tutti benvenuti ad un'altra importante intervista live in streaming del portale Heavy Metal Web Scene io sono sempre il vostro Daniel e sono fortunato perché anche questa sera con me in regia c'è il grande Flames ciao Flames ciao Daniel, ciao a tutti ragazzi benvenuti e stasera serata scoppiettante con due grandi artisti italiani che lanciamo subito Daniel, cosa dici? a te le presentazioni mi è frizzato Daniel va bene, Daniel ci sei? ci siamo, ci siamo ok dicevamo, serata frizzante e soprattutto molto importante anche dal punto di vista morale se vogliamo, vista la l'ideazione e il piano di questo progetto lo diciamo subito, il progetto si chiama Mameli Rock richiama subito al nostro inno nazionale ed è gestito diretto dal chitarrista Marco D'Andrea con una sfilza di di ospiti adesso poi lo spiegheremo molto meglio insieme a lui uno degli ospiti questa sera sarà insieme a Marco a spiegarci il progetto e quest'ospite chi è che è? Flames, dillo tu attenzione quindi entra in scena prima di tutto Marco D'Andrea che salutiamo ciao ragazzi un saluto abbiamo ancora un po' di suspense e abbiamo signori con noi stasera Giacomo Voli ciao Giacomo ciao a tutti eccoci qua diciamolo Marco D'Andrea chitarrista di Planetard e Giacomo Voli notissimo cantante metal italiano e attualmente cantante di Rhapsody of Fire grazie eccoci qua grazie ragazzi grazie per questa intervista è un piacere avervi con noi allora un piacere nostro Marco Giacomo due parole velocissime sul progetto Mameli Rock chi, cosa, perché? allora il progetto Mameli Rock poi entraremo bene nel meito giusto così per iniziare a dire qualcosa è un progetto nato con l'intento di dare un contributo attivo a chi sta lottando in prima linea per tutti noi infatti l'intero ricavato della vendita del brano in tutti gli store digitali verrà interamente devoluto al Policlinico di Milano e quindi niente praticamente il progetto Mameli Rock è questo ho radunato tanti artisti tra i quali Giacomo poi avremo nel corso della diretta modo anche di presentare un attimo tutte le persone che ci sono dentro si basa su un elemento che caratterizza e accomuna noi italiani che è l'inno di Mameli ho preso l'inno di Mameli l'ho riarrangiato l'ho riarrangiato per renderlo in chiave rock metal con degli arrangiamenti appunto particolari perché si parte da degli inserti di chitarra degli interventi solistici di chitarra fino poi alla fine in cui ci sono tutti i cantanti che cantano coralmente l'incipit melodico dell'inno per esempio Mameli Rock è detto in due parole così come introduzione questa Giacomo ho avuto il piacere anzi di qua Giacomo ho avuto il piacere di collaborare in questo progetto ci siamo divertiti no Giacomo molto moltissimo come ho già detto altre volte è stato divertente per me in particolare perché non avevo mai cantato non avevo mai avuto l'occasione di cantare il nostro rinno nazionale per cui la prima volta fu questa insomma una prima volta nobile se vogliamo è sempre una prima volta dammi il 5 Marco aspetta aspetta che lo dai dall'altra parte sono effetti speciali che solo noi di Heavy Metal Web sono fantastico Marco fai conto che io sia un uomo della strada bello mi piace il progetto Mameli Rock come faccio a finanziarlo per aiutare il Policlinico di Milano allora guarda è semplice puoi andare o sul sito dell'etichetta discografica RNC Music c'è la pagina appunto Mameli Rock o anche sul mio sito marcodandrea.it c'è la pagina dedicata a Mameli Rock in cui ci sono oltre ai vari link anche quello di YouTube perché ricordiamo che nel tutto ho avuto anche l'idea di fare un videoclip in quarantine mood praticamente girato all'interno delle nostre abitazioni io nel mio studio discografico nel mio studio di registrazione perciò all'interno di quella pagina ci sono tutti i link per acquistare il brano negli store digitali da Amazon Music da Google Pay da iTunes piuttosto che Spotify eccetera eccetera costa un euro ragazzi non è che costa tantissimo spediamo questo euro soprattutto perché uno la canzone visibile su YouTube è una figata passate poco professionale ma è veramente bello l'arrangiamente bello la performance di tutti gli artisti sia strumentale che vocale è di altissima qualità e poi l'idea di fare della beneficenza ascoltandoci il nostro amato rock metal vale triplo se non di più Marco faccio delle domande a Giacomo perché tu Marco sei il regista del progetto quindi voglio sentire prima io sono sempre quello che fa le domande infide voglio sentire prima la controparte Giacomo com'è che sei venuto in contatto con Marco per questo progetto che cosa ti ha chiesto ho la memoria di un bradipo morto credo che mi avesse scritto su messenger in un modo molto semplice ci siamo conosciuti così adesso poi mi correggerà Marco se non è vero perché magari è triste che invece mi ha scritto mi ha telefonato non me lo ricordo ti avevo mandato è un piccione viaggiatore era un piccione viaggiatore era buonissimo con le patate è stato incredibile ecco perché non è mai tornato è stato tutto molto naturale semplice nel senso non vedo non vedo il problema ecco in questo periodo nel fare qualcosa di buono visto che quello che so fare è questo insomma è nato nel modo più semplice possibile ed è stato un piacere ecco perché poi mi aveva accennato che c'erano tanti altri artisti per invogliarmi ma avrei detto di sì tranquillamente nel senso che insomma avevo sentito anche l'arrangiamento forse mi avevi già mandato l'arrangiamento mi pare per cui sì sì è una preproduzione da sentire nel senso mi ero già convinto domanda musicale Giacomo la tua parte vocale te la sei arrangiata da solo e io ho ricevuto delle parti iscritte da Marco no ho ricevuto la canzone la tonalità era quella che aveva deciso lui però diciamo che mi sono preso la libertà di farla un po' troppo alta però però insomma ci stava dai perché insomma altrimenti diventava infatti la voce di Giacomo nel mix ho dovuto abbassarla un pochino perché vedevo i vetri di casa che iniziavano a oscillare ho detto prima che imploda tutto era una battuta era perfetta perché così potevo strillare dove strillo di solito ecco diciamo esatto la fatta apposta la fatta apposta per noi musicisti che tonalità era? si bemolle maggiore penso benissimo ecco e Giacomo invece come hai accolto la proposta del videoclip dico amatoriale anche se non è il termine giusto poi ci arriviamo sulle specifiche del video Marco ha capito cosa voglio dire Giacomo mi sembra l'unico modo in questo momento abbastanza come si dice veloce per poter anche accomunarci tutti nel senso che uno può anche avere i mezzi più fighi del mondo ma in questo momento secondo me proprio questa dimensione ci avvicina e ci fa capire che alla fine siamo sulla stessa barca proprio anche perché sfruttiamo questi mezzi insieme ecco per cui nel senso l'intento non penso proprio che fosse quello di fare un videoclip come quelli appunto che puoi vedere da una band metal e anche perché è stato fatto per aiutare le persone che sono in difficoltà in questo momento se non rappresentavo a questo momento un videoclip fatto così non saprei cos'altro può farlo mi hai anticipato tutte le successive domande Marco puoi confermare anche esplicitato che la scelta del videoclip casalingo è proprio per enfatizzare il momento di pandemia dovuto al maledetto virus covid-19 esattamente una fotografia di quello che stiamo vivendo perché adesso faccio fare una risata tra i vari commenti c'è stato anche uno che ha scritto vabbè ma voi artisti fate bene a fare queste cose visto che vivete in ville con piscina eccetera io non lo so non mi ritrovo in questo però sì in effetti magari il prossimo videoclip possiamo fare nella piscina comunale in modo tale che sottolineiamo questo comunque no sì il video appunto sta a simboleggiare questo cioè siamo tutti quanti in casa perciò è giusto dare un contributo noi artisti faccio una domanda un po' infima a Giacomo Giacomo rispetto al videoclip come ti rapporti con il vero e unico protagonista del la perdon vera e unica protagonista del videoclip che è il gatto Margot la mia gatta adesso ho capito io ho i gatti per cui chiedo scusa se non mi ero accorto della regina insomma per cui no io sono sicuramente in seconda posizione secondo sempre è passata avete visto anche prima fuori onda lei appena può appena mi sposto mi segue perciò Margot appena stavo facendo delle riprese si è messa in mezzo e fa bene Margot ho capito finisce anche te nel video che poi diciamocelo Margot era Fugigo e Fugigo era Margot perché per me non c'era differenza cioè poteva metterci in un'altra parrucca ma sì sì stessa intima persona Giacomo diciamo il tuo aspetto tradisce un momento di lavoro impegnativo a prescindere dal progetto Mameli Rock cosa stai facendo dicelo sono in piena fase compositiva per i testi del nuovo disco dei Rhapsody of Fire per cui sono molto contento ma anche abbastanza stressato in modo positivo perché insomma sto cercando di eguagliare il lavoro che è piaciuto tanto su The Eighth Mountain e fare di meglio ancora perché insomma per fortuna so di avere dei margini di miglioramento e per il prossimo disco voglio mettere ancora più insomma carne al fuoco e modo di dare soddisfazione ai fan oltre che a me stesso ovviamente sappiamo che andrete in tardo autunno inizio inverno a fare un tour giusto in Europa sì diciamo che faremo le date che non siamo riusciti a fare per il tour che appunto è stato interrotto seppur diciamo nella fase finale per cui ci mancavano cinque date ma ahimè abbiamo dovuto stopparci tra le quali quelle a Legend per cui nel senso recupereremo quelle date che non abbiamo fatto e per fortuna visto che siamo in un trend positivo nonostante il momento ne sono state aggiunte delle altre per cui a tutti gli effetti faremo un'altra metà di tour europeo insomma per ora c'è una bella settimana piena una decina di giorni ecco mi aggancio alle tue parole sul trend positivo c'è voglia di live anche anche per il pubblico noi noi non abbiamo i concerti voi non li fate i concerti è per noi un dramma ma noi non possiamo venire a sentirvi quindi esempio Marco tu so che dovevi essere presentare un tuo progetto giusto? vuoi dirci qualcosa? sì guarda Daniel mi viene il magone a pensarci perché questo sabato appunto già come ho parlato appunto prima del Legend eccetera avrei dovuto suonare al Legend Club di Milano in apertura col mio progetto solista in apertura in The Timmons perciò che è un chitarista che stimo tantissimo è uno tra i migliori al mondo ovviamente la data non è stata annullata ma è stata posticipata a data da definirsi si spera il prima possibile con tutte le sicurezze del caso anche se penso che conoscendo il Legend e conoscendo Phil che è l'organizzatore appena si potrà fare qualcosa farà un mega evento in cui ci saranno tutti gli artisti a suonare lo so già di certo questo il Legend Club è salito anche alla cronaca ultimamente se non sbaglio per vandalismo un atto depravato peraltro in questo momento disgraziato eppure peggio sì vai tu Marco però c'è veramente non avevo parole non ci sono parole per descrivere certe persone è una cosa c'è il classico detto la madre degli idioti è sempre incinta c'è la fine perché adesso apro e chiudo parentesi appena è iniziato il lockdown tempo due settimane mio fratello che ha un negozio gli hanno rubato il furgone che io dico dai c'è va bene tutto adesso già il periodo è difficile per tutti ci si mettono pure questi personaggi e Legend hanno fatto del vandalismo gratuito né più né meno vi faccio una domanda a tutte e due chiedo prima Giacomo poi a Marco l'ambito live di questa quarantena ovvero tanti gruppi si stanno attrezzando io li ho visti principalmente i gruppi del nord Europa però a fare concerti in streaming cioè si paga un piccolo biglietto d'ingresso che è un infinitesimo rispetto a quello che può essere un biglietto di un concerto reale e loro suonano in diretta con anche multicamere sbaglio erano i catatonia che l'hanno fatto ultimamente Flames aiutami si anche i Nightfly Orchestra mi sento sono stati forse i primi a fare a fare una cosa del genere ok cosa ne pensate voi di questo approccio nuovo moderno limitato se vogliamo alla musica prima Giacomo no prima Giacomo vuoi scaricare la palla su di me allora no io sì appunto so che già da tempo esiste questa cosa per cui non vedevo il male neanche prima ecco se funziona perché no cioè nel senso sicuramente non non c'è l'impatto diciamo che hai vedendo dal vivo le persone non so come dire avendo questa sensazione di presenza vicino a te però può dimostrare non so anche qualità cioè poi dipende perché io per esempio questa cosa non potrei farla perché non vivo nello stesso posto degli altri miei compagni di band per cui bisognerebbe avere comunque un posto dove tu puoi stare tutti insieme per non avere problemi di delay no di cose del genere però sì non vedo perché no cioè va tutto bene se la gente si abituasse a valorizzare la musica andrebbe bene tutto no cioè questo è poi il punto cioè se la musica ha un valore e la gente lo riconosce siamo a galla se invece continuiamo a svenderla così allora neanche questo può avere tanta importanza secondo me Marco detto bene ma io sono dell'idea che bisogna sempre guardare avanti e tutto quello che può servire per evolversi migliorarsi assolutamente vale la pena poi se è qualcosa che può funzionare ovviamente ovvio non è soltanto un pagliativo momentaneo perché il concerto il calore che si riceve anche che il pubblico riceve da chi è sul palco e contemporaneamente da chi come me Giacomo dal palco riceviamo l'energia del pubblico è una cosa che ovviamente non può limitarsi a una webcam perché vorrebbe dire rendere il tutto molto più più freddo esterico però sicuramente di questi tempi bisogna anche cercare di andare avanti mettendoci una pezza e facendo qualcosa di positivo sul nostro portale Heavy Metal Websin c'è un bellissimo articolo scritto da un collega Maximus che parla proprio di questo argomento secondo voi questa quarantena può aver iniziato questo trend dei concerti in streaming che andranno ad affiancarsi una volta finito speriamo in fretta questo periodo concerti in streaming affiancati a concerti live quindi le band tenderanno a proporli entrambi magari alzando un pochino di più i concerti in streaming piuttosto che quelli live o viceversa o lo streaming comunque il concerto in streaming andrà a scermare una volta finita la quarantena non lo so io penso che come per ogni aspetto della tecnologia non sia non so come dire negativa la tecnologia in sé per cui magari si continuerà cioè il problema rimarrà perché se per tanto tempo non si potrà avere liberamente accesso a un locale senza preoccuparsi di quante persone ci possono stare cosa che deve essere comunque così nel senso che se un locale ha un numero ovviamente limite di persone anche prima questo discorso era parlo del fatto che se un locale è obbligato a dire ogni persona deve essere lontano l'uno dall'altra di tre metri non so come dire o alzi il biglietto di tre volte tanto oppure cioè nel senso ci sono comunque dei problemi grossi per cui magari se fare concerti in streaming può essere utile non lo so però rimane il fatto che i locali non ne possono beneficiare oppure si fa solo tutto all'aperto e non lo so bisognerà vedere un po' quali sue formule la crisi vale anche per tutti gli operatori dello spettacolo oltre che i musicisti stesso anche telefonici tecnici di qualsiasi tipo e anche promotori organizzatori oltre ai proprietari dei live una domanda tecnica a Marco sul progetto Mameli Rock visto che c'è qua Giacomo che è stato uno dei tuoi collaboratori come hai gestito l'organizzazione dal punto di vista tecnico ovvero le registrazioni principalmente audio e video del progetto immagino che comunque tu abbia dovuto coordinare tutte le persone dandogli dei dettagli specifici di come fare sì ho dato delle linee guida nel senso che avendo seguito il progetto come produttore artistico prima e poi anche come chitarrista ovviamente ho dovuto proporre un prodotto che fosse già all'80% completo senza gli interventi degli altri infatti come prima diceva Giacomo la parte finale dove ci sono i cantanti che intervengono ho scritto una partitura una melodia con le armonizzazioni su partitura delle varie voci poi uno sceglieva come appunto Giacomo ha scelto il registro che più gli è comodo altissimo quello altissimo direi levissimo pure levissimo esatto esatto piuttosto che ad esempio ci sono parlando dei vari protagonisti che fanno parte di questo progetto ci sono dei chitarristi solisti tra i quali c'è Andrea Braydo c'è Tommy Massa di Xtrema Antonio Cordaro ci arriviamo ci arriviamo sì che loro ovviamente io ho detto a Ralph Salati del Dress gli ho detto ragazzi fate una cosa fate il solo che parte qua e finisce qua poi la cosa bella Daniel è che ho dato appunto delle linee guida ma come produttore tendo anche a dare un po' di carta bianca perché secondo me quando riesci a dare alle persone con le quali stai collaborando il vantaggio di poterci mettere del loro è lì che arriva la figata perché anche le parti degli interventi solistici ad esempio non è stato un grandissimo lavoro di editing perché sembra fatto posto cioè si sono incastrati perfettamente gli intro e auto di tutti gli assoli quindi è andato tutto nel migliore dei modi non ci sono stati grossi intoppi posso dire che sembra quasi un video didattico di tecnica di chitarra perché c'è quasi tutto lo scibile nella prima parte della canzone sulle tecniche chitarristiche è bello è vario la canzone è quella perché la struttura è quella però si vedono stili completamente diversi hai citato Ralph Salati dei Destridge per arrivare a Tommy Massar degli Extreme fino al appunto Andrea Brydon ben noto chitarrista italiano insomma oltre a te tu non hai fatto solo il produttore artistico ma hai detto sei stato anche chitarrista il primo solo sì guarda avrei voluto sinceramente Daniel fare anch'io l'intervento solistico però ho preferito lasciare spazio tra gli altri perché ovviamente inizialmente il progetto era nato che dovevo fare tutto quanto io poi mi son detto visto che è una cosa di beneficenza volevo coinvolgere anche tanti altri appunto artisti e colleghi come Giacomo Andrea eccetera sicuramente sai fare creare un super team che può aiutare maggiormente in questa situazione poi hai citato Andrea Brydon Andrea è stato uno dei chitarristi che ho contattato per prima ho avuto modo di suonare con lui svariate volte abbiamo suonato una delle ultime volte dei brani di Hendrix ogni volta sentirlo suonare è sempre un piacere poi averlo nel progetto insomma è tanta roba perché comunque lo si sente suonare mi auguro di no ma diciamo se qualcuno non dovesse conoscere Andrea Brydon ha suonato con Vasco Rossi con Zucchero con Frank Gambale chi altro si stiamo un bo Mina tutti quelli che ti vengono in mente tutti quanti tutti quelli che ti vengono in mente Masini tutti in ambito italiano e anche non perciò e dal punto di vista video invece la gestione della ricezione di tutti i filmati casalinghi fatti dagli artisti ma guarda dal punto di vista video ho spiegato tutti di fare delle riprese mentre eseguivano la parte poi mi sono affidato a Jacopo Boscarini della IECOFIM che è un mio carissimo amico e ha seguito molti miei video di artisti che seguo per il montaggio perché ovviamente non potevo gestire tutto quanto anche perché volevo nonostante le riprese amatoriali fatte in casa volevo che il montaggio fosse professionale infatti ha fatto secondo me un lavoro molto bello e anche emozionante perché mi ricordo quando ho passato il video all'etichetta per l'approvazione per NC Music mi ha chiamato Nico dicendomi Marco mi sono commosso a guardare il video molte altre persone hanno scritto questa cosa che la lacrimuccia è scesa mentre guardavo il video perché sai comunque maneggiare l'inno italiano alla fine mi sono detto se devo fare una cosa puntiamo alto cioè cosa rappresenta l'Italia mi sono venute in mente due cose la pizza è l'inno di Mameli la pizza non potevo gestirla musicalmente e allora ho detto prendiamo l'inno che insomma è una bella una bella sfida da arrangiare quindi Giacomo tu hai registrato tutto in autonomia a casa tua? sì 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 ho fatto insomma quello che potevo con i miei mezzi per fortuna diciamo per un progetto come questo sono sono andati bene dai non ho niente di troppo tecnologico per cui bene così dai e anche perché come dicevamo prima rispecchia ecco il momento altrimenti diventa una cosa troppo curata e dopo ci chiedono dove è la piscina esatto esatto se piove se piove non lo so Marco dal punto di vista di Mixer Master hai fatto in autonomia o ti sei appoggiato a qualche studio? guarda dovendo gestire tutti quanti dovendo gestire anche il rapporto con l'etichetta per quanto riguarda i comunicati stampa eccetera e quant'altro ho preferito affidarmi a Matteo Magno anche lui mio carissimo amico che ha seguito diversi album il mio album solista come coproduttore piuttosto che gli album dei Planet Hard e ha curato lui il mix e l'editing anzi si è anche divertito perché ogni volta mi dicevano quante voci stanno arrivando io aspetta che non sono ancora tutte devono arrivare perché pian piano ovviamente appena i miei amici e colleghi registravano mi mandavano e lui pian piano montava perciò mi ha detto una volta guarda che adesso Pro Tools per aprirsi che è il software che ha utilizzato ci sta impiegando 20 minuti dalla quantità di materiale che mi stai mandando bene diciamo che insieme abbiamo citato i chitarristi insieme a Giacomo nelle voci avevamo Masha Mismain degli Exilia grandissima c'era Marco Pastorino che è chitarrista ma anche vocalist nei Temperance esatto c'è Claude Brolis c'è Bravo Claude Brolis Gigantelli The Danger Zone Steve Michenesia esatto Michensia Michensia poi c'è Lale che è una ragazza che ho prodotto alla quale ho prodotto artisticamente l'album Alessandra Sancho esatto in arte Lale esatto che è quella che compare nel video con la bambina esatto bellissima molto casalinga molto di vita sì sì è vero e poi avevamo non abbiamo citato la sezione ritmica che è la più importante e abbiamo Anna Portaluppi al basso giusto che viene dagli hardline e ha suonato anche con Tarja Turunen se non sbaglio esatto sì è stata bassista per il tour e poi hai schiavizzato il tuo Stefano Arrigoni degli Planet Hard beh guarda Stefano ovviamente ci suoni insieme da quando avevamo 17-18 anni è stato il mio primo batterista perciò quando penso a chi mi può affiancare penso a lui tant'è che anche nel mio progetto solista c'è lui la fammi dire questo è un entodo divertente perché lui ovviamente ha registrato il tutto con la batteria elettronica e quando mi ho mandato il videoclip questa è una cosa che non si può vedere poi in realtà la batteria elettronica non emette suoni perciò senti proprio e basta è stato divertente vedere il video mentre suonava si impegnava ma in realtà non usciva il suono se non incuffia faccio una domanda retorica quasi il disco è uscito il 17 aprile canali digitali immagino che non sia previsto un supporto fisico perché avrebbe per il momento no nel senso per il momento no ti spiego anche il perché perché con il discorso degli store digitali è tutto più controllabile nel senso che uno può guardare il video eccetera se vuoi acquistare la canzone vai lì e i soldi vanno direttamente poi al policlinico perciò è la situazione migliore secondo me puoi mai dire mai anzi stiamo a breve faccio un gesto ma guarda non dico niente sì sì mai dire mai esatto beh puoi dirci però se il progetto per adesso sta andando bene sta affrontando qualcosa senza dire cifre però insomma ci teniamo a poter dire che il policlinico ha un supporto dal mondo metal italiano quello sicuramente ovviamente le cifre esatte non le so perché di giorno in giorno cambiano quello che esatto quello che posso dire è che ho fatto insieme a RNC Music un conteggio approssimativo delle visualizzazioni del video su YouTube sui vari social in particolar modo su Facebook dove sta andando davvero davvero tanto bene e abbiamo superato le 200.000 visualizzazioni perciò direi non è male non pretendo che c'è 200.000 visualizzazioni per un euro di una canzone il conteggio viene da sé però dico almeno una cifretta per dare un contributo importante speriamo di poterlo raggiungere invece anche dal punto di vista grafico il progetto è molto bello se ne è occupato leggo Annalisa Forcella occupata sì Annalisa è stata fortissima gli ho detto guarda Annalisa c'è questo progetto a lei è venuto in mente appunto di usare il manico della chitarra come asta con attaccata la bandiera italiana perciò ha rappresentato nel migliore dei modi non poter fare di meglio infatti tant'è che tutti i progetti collaborano con lei per quanto riguarda Buche di Copertina perché è stata davvero davvero in gamba anzi la saluto tra l'altro perché mi sa che sta ascoltando si è frizzato Daniel o sta giocando un 2-3 stella secondo me Daniel aspetta mandiamo un commento intanto sappiamo tutti che nel heavy metal non ci sono soldi molti artisti locali chiedono aiuti per sopravvivere potevate chiedere soldi anche voi invece li donate mi auguro questo non sia dimenticato in futuro da nessuno questi gesti fanno la differenza delle persone voi siete dei grandi come non dargli ragione wow sono senza parole grazie tutti mi sento di girare tutti gli artisti che hanno partecipato al progetto perché veramente grazie mille viva il metal che ci sta che ci sta sempre bene dicevo intanto che girano sotto i commenti degli ascoltatori Giacomo sul futuro oltre al tuo con i Rhapsody e la preparazione del nuovo album hai qualche altra collaborazione in ballo vuoi farci qualche anticipazione ma ci sono altre due o tre cose che devono uscire sempre per l'emergenza coronavirus per cui progetti nati e ce ne sono già altri usciti insomma uno con Mario Biondi uno con Alessandro Riccardo che saluto con tanti altri bravessimi artisti che si chiama United We Stand insomma sempre progetti per contribuire alla causa e per beneficenza e per cui su queste cose qua vabbè le potete trovare sulla mia pagina così cos'altro di importante beh ci sono un paio di artisti che mi hanno chiesto appunto di cantare per il loro disco e io personalmente diciamo emergenza a parte o esclusa cercherò di rimettere in piedi un progetto per fare invece le mie cose in italiano per cui ho tutta la volontà di creare una sorta di power trio dove mi mettere in gioco anche come titerrista un battista un batterista per fare qualcosa di più crudo diciamo sui pezzi in italiano che ho già scritto e su quelli che ho già qui da parte insomma su che genere andremo il progetto in italiano ma allora come era uscito per adesso era una sorta di rock melodico tendente un po' al metal e al prog e credo che prenderà una piega più grezza no nel senso che mi piace l'idea di poterlo trasformare in qualcosa di più vicino ai fantastic negrito ai raggi against the machine cioè qualcosa di più duro con solo chitarra basso batteria voce per cui qualche effettivistica ovviamente però nel senso molto più semplice ecco vediamo cosa succede andiamo tra l'altro scusa Daniel se mi intrometto visto che Giacomo stava dicendo che in questo progetto suonerà la chitarra volevo dire che nel suo progetto canterò io ah ok fatto fatto sì sì vediamo un po' cosa succederà queste sono le chicche della diretta che poi ci piace tenere e rilanciare come grandi news in anteprima certo attenzione domani su Blubbermount invece per te Marco con i Planet Hard guarda con i Planet Hard stavamo ufficialmente entrando in studio quando appunto è scattato il lockdown nel senso che le preproduzioni ormai sono già già state completate le parti di chitarra le ho già registrate appunto in studio da me dovevo tanto andare dovevo soltanto andare in studio per finire il lavoro e sistemare quello che c'è da sistemare però diciamo che il grosso è stato fatto tanto che stiamo aspettando appunto che si possa tornare a rivedersi e poter continuare e speriamo che possa vedere la luce il prima possibile molto bene e quindi magari supportato da Telaio possibilmente sì supportato guarda la fortuna ovviamente che adesso al momento non avevamo ancora fissato niente perché appunto dovendo entrare ancora in studio non sapevamo ancora la data di uscita perciò diciamo che questo momento ovviamente è arrivato tra capo e collo però per fortuna abbiamo rimandato quello che poi saranno le presentazioni ufficiali più avanti anche perché nel mentre contemporaneamente visto che parlavamo prima fuori onda tutti quanti Giacomo sta lavorando al disco appunto di Rhapsody of Fire io mi sto recimentando col mio secondo disco strumentale perché ho detto visto che sono qua e sto suonando come se non ci fosse un domani ho detto facciamo che almeno faccio fruttare un po' il tutto e continuo a registrare qualcosa Giacomo dici qualcosina sull'album nuovo di Rhapsody dai fa il bavo allora si tratta diciamo del secondo capitolo della Nephilim Empire saga per cui di questa storia ispirata liberamente molto romanzescamente a questi personaggi in Nephilim che sono citati anche nella Bibbia insomma come giganti come esseri diciamo abbastanza mostruosi che poi qualcuno ha cercato di ricollegare agli alieni e anche forse diciamo sono tutte cose che alimentano la fantasia senza dover entrare sperando di non trovare qualche seguace di biglino e cosa cosa si può dire beh che appunto è tutto molto romanzato al punto che io insomma adoro proprio fare dei viaggi di fantasia su questi temi su queste ambientazioni che possono spostarsi diciamo da un ambiente un po' biblico fino con la magia si può lavorare veramente in tutte le ambientazioni in tutti i luoghi e in tutti i laghi e far l'amore e niente per cui sto cercando di costruire insomma la seconda parte di questa storia che si sta complicando parecchio di questo Krill che è il nostro eroe che è un po' un anti-eroe in questo caso perché è soggiogato dal potere di questo Nephilim che gli fa fare cose che lui scoprirà essere assolutamente sbagliate e terribili perciò ho detto anche troppo ecco nel senso questo è un po' quindi ci aspettiamo qualcosa di musicalmente potenzialmente più aggressivo di The Eighth Mountain dunque secondo me pareggerà diciamo l'intenzione di The Eighth Mountain che ovviamente è quella di tenere alto la tradizione ecco perché secondo me la cosa bella è che The Eighth Mountain dimostra come si possa continuare a essere fedeli alla propria linea personalmente sto cercando di mettere molti più informazioni ecco che riguardino la storia più nomi più caratterizzazioni e aggettivi che possono identificare i personaggi perché è una cosa che avevo già intenzione di fare diciamo che su The Eighth Mountain è stato un po' un esperimento su questo calcherò ancora di più la mano ecco su questo aspetto fantasy e della narrazione importante se Marco me lo permette faccio un'ultima domanda sui Rhapsody una domanda su The Eighth Mountain chi è che smetto i panni del giornalista un attimo e metto il panno del fan chi è che ha scritto il testo di Warrior's Art io tutto ho scritto tutti i testi sì sì per cui grazie bellissimo da amante della rievocazione storica del fantasy ho apprezzato tanto grazie molto mi piace sempre molto cantarla quella lì sì ottimo Marco con Mameli Rock che rapporto hai avuto con la l'RNC Music mi pare di capire che sei in ottimi rapporti con loro quindi il progetto è stato un flusso continuo senza nessun tipo di ostacolo nella lavorazione con loro per la pubblicazione perché l'idea bella di per sé non basta ci vuole anche qualcuno che mette in pratica poi la la banalissima pubblicazione e il fatto di riuscire ad avere il ritorno economico che va poi in beneficenza beh sì guarda Daniel fai conto che RNC Music è un'etichetta che conosco da tanti anni Nico Spinosa in particolar modo fai conto che l'ho disturbato letteralmente svegliato un lunedì mattina alle 8.30 quando la notte ho avuto questa idea nel senso che mi continuava a ballare per la testa questa idea ha detto vediamo se riesco a concretizzarla infatti la prima cosa che ho fatto è stata chiamare contattare lui perché con il supporto di RNC Music poi sai potevo muovermi liberamente e anche perché mi hanno dato completamente carta bianca mi hanno detto fai tu il produttore coinvolgi tu chi vuoi fai tu tutto e poi sentiamo il materiale finito perciò con il loro supporto poi ho iniziato a scrivere a contattare tutti quanti che si sono dimostrati tutti molto hanno preso subito parte attivamente con anche gioia di partecipare e di dare anche del bene o di dare un contributo ovvio che il nome la lista delle persone partecipanti sarebbe stata anche molto più lunga il problema grosso ragazzi qual è stato che questo lockdown forzato ha obbligato tutti a stare in casa io ovviamente adesso qua non si può vedere perché ho la webcam ma sono pariente del mio studio perciò ho tutta l'attrezzatura anzi faccio un attimo vedere qualcosa si riesce a vedere cioè ho qua gli amplificatori di qua le schede audio processori eccetera microfoni che mi servono per registrare perciò purtroppo molti non hanno avuto questa possibilità e quindi anche altri nomi importanti hanno potuto partecipare per questo motivo Giacomo fai con la webcam vedere anche tu la piscina per favore ma in verità è nello spogliatoio della piscina la lettiera del gatto la lettiera del gatto interessante no ma in realtà è anche una delle cose belle far vedere i musicisti a volte anche idolatati così nel loro ambiente quotidiano fuori dall'ambito in cui tutti siamo abituati a a vederli e rispecchia pienamente il video questo lockdown dove tutti siamo stati siamo ancora chiusi nella nostra casa per curiosità dimmi un po' Marco chi altri avevi contattato che purtroppo non è riuscito ad aiutarti dacci qualche chicca dai ma guarda un nome tra tutti ti potrei dire Pino Scotto col quale c'è un mio carissimo amico e quando c'è beneficenza anche lui sempre in prima linea solo che appunto mi ha detto io sì vado in studio e te lo registro e sì Pino ma non si può uscire il problema grosso è quello Pino non si può uscire perciò Pino piuttosto che c'è stata anche un artista che sto seguendo che avrebbe uscito all'album Nina che purtroppo dovrà partecipare anche lei ma le si è rotto il microfono cioè quando la sfiga ci vede non bene proprio benissimo più altre persone ovviamente altri artisti non voglio citarli tutti ovviamente però la lista è veramente lunga bene 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 dunque vogliamo io voglio ricordare innanzitutto un paio di un paio di link quindi su Instagram at a tiocciolina at mamelioc si trova la pagina Instagram marcodandrea.it lo hai già nominato tu quindi ci saranno tutti i link per la canzone e dico anche rncmusic.it che è il sito dell'etichetta esatto e la pagina facebook mamelioc più facile di e poi il video anche ovviamente che si può vedere sia su facebook che su youtube poi lo linkeremo anche noi con heavy metal webzine magari sulla pagina facebook flames poi nasce a chi di competenza nella redazione noi l'abbiamo già linkato nella pagina nella webzine proprio questo questo si c'è flames c'è qualche domanda da lanciare c'è un paio di domande soprattutto una che adesso mettiamo di christian che dice pensate in futuro di organizzare altre eventi di beneficenza il virus almeno in italia ha scoperchiato una serie di problemi che il nostro paese non ha mai risolto né nella prima né nella seconda repubblica attenzione domanda difficile di christian vado io giacomo vai tu faccio sì vado io così poi vi saluto ma personalmente non vedo perché no cioè nel senso gli eventi di beneficenza non non penso che siano il punto ribadisco sempre che il settore della musica soffreva già da prima molto molto per cui io volentieri non ho problemi perché nel senso spero di poter avere tante altre occasioni per poter guadagnare regolarmente per cui c'è che non sia un concerto di beneficenza da fossare tutta l'attività live insomma cerchiamo di ricordarci anche che appunto noi viviamo di questo cerchiamo di vivere di questo per cui ben venga non vedo perché no che sia una cosa parallela e che si possa gestire insieme ecco tutto quello che a noi ci da da mangiare infatti 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 poi apro una piccola parentesi sono dieci anni che organizzo una serata di beneficenza faccio vedere anche in occasione del mio compleanno a fine anno per il cui ricavato poi ente va a make a wish italia onlus questo è il calendario che mi hanno dato praticamente in questa fai conto che l'anno scorso appunto a fine ottobre in occasione del mio compleanno c'erano circa quasi 800-900 persone bocca a boi anzi Giacomo sei invitato se quest'anno la facciamo ci facciamo ci speriamo qualche canzone insieme quindi la beneficenza va sempre bene va sempre bene sia dal punto di vista musicale comunque tutti possono fare del bene cioè anche senza donare io quello che sto cercando di dire in tutte le gli interventi le interviste che sto facendo è che da questa situazione visto questo virus che ha messo il bastone tra le ruote a tutti come appunto diceva prima Giacomo in particolar modo la musica col tempo ne ha risentito adesso è tutto bloccato però cosa possiamo fare noi da questo periodo dobbiamo uscire come delle persone migliori dobbiamo cercare di essere meno egoisti più buoni anche nei piccoli gesti quotidiani evitiamo di incazzarci per le stupidaggi non di litigare in strada bisogna andare per forza bisogna andare prima ma chi se ne frega ragazzi i veri valori della vita sono altri bisogna godersere la vita allora sappiamo che Giacomo è piuttosto impegnato quindi io a nome di tutta la redazione di Heavy Metal Webzin ti ringrazio per l'intervista che c'hai il tempo che ci hai dedicato questa sera grazie a voi un po' al lupo con tutti i tuoi progetti un saluto a Giacomo Voli alla prossima Giacomo grazie Margò la abbiamo parcheggiata quindi Margò dovuta mettere su perché ogni tanto praticamente ci sono i momenti in cui è calma e pacifica e ci sono i momenti in cui è ingestibile adesso stava vedendo il cavetto che ho collegato perciò ho cominciato a giocarci a mangiucchiare scusa diciamo che nel caso qualcuno non si sia collegato da poco che Margò è il gatto di Marco non è la compagna quindi no 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 decisamente è la mia la mia gatta trovatella direttamente da Napoli poverina abbandonata che aveva tre mesi sempre nell'ambito della diciamo beneficenza bravo Marco una persona fantastica senti io non sono una persona fantastica fammi fare una domanda scomoda ma è andato bene Daniel scusa stai andando così bene perché devi rompere le uova nel paniere no vabbè perché perché è bello così senti io l'ho già fatto ad altri artisti italiani con cui ho avuto il piacere di di chiacchierare è una domanda scomoda in Italia si campa di musica parliamo di massimi sistemi dai nel nostro nel nostro ambito è fattibile è difficile a prescindere dal lockdown questa è una situazione limite ovviamente però diciamo in generale ma in generale guarda per vivere di musica oggi in Italia dato che i tempi sono cambiati internet ha dato una mano a tutti a chiunque sia al professionista che anche al al dilettante o all'amatore di farsi conoscere in rete contemporaneamente ha tagliato le gambe a chi vende gli album perché comunque c'è stato negli ultimi anni un tracollo letteralmente di di acquisti di album perciò sai anche di solito l'itre fai l'album poi lo presenti in tour però se ultimamente i proventi derivano soltanto da esibizioni live c'è stato ovviamente un po' un tracollo quello che consiglio a chi vuole intraprendere il percorso di fare della musica il proprio mestiere che è quella scelta che ho fatto io non è facile non è facile perché è una lotta continua anche perché appunto io sono impegnato sia come chitarrista come tornista come arrangiatore compositore tra l'altro non abbiamo citato Daniel prima anche all'interno all'interno del progetto Romeli Rock c'è anche l'intervento di DJ Talk di Virgin Radio con il quale ho collaborato per delle sighe dei jingle eccetera perciò oltre appunto dicevo a fare anche il musicista il produttore artistico sono anche insegnante di musica e di strumento perciò quello che consiglio è di essere attivo di essere attivi su tanti fronti perché purtroppo ci sono tanti miei colleghi che vivevano soltanto di live sai quando fai musica inedita non è che sei in giro tutti i weekend a suonare hai per esempio il periodo in cui devi promuovere l'album e vai in giro però tante persone per citarne uno appunto Antonio Cordaro che fa parte del progetto Mameli Rock col quale abbiamo condiviso perché ci siamo conosciuti al CPM ed abbiamo fatto il CPM insieme lui vive anche di live suonando in un tributo ai Pink Floyd perciò mi rendo conto CPM nota scuola di musica di Milano esatto esatto sì nel lontano aspetta che te lo dico nel lontano 2003 perciò ne è passato un po' di tempo Daniel però c'è da dire che intanto Daniel si è frizzato ancora io vado avanti a parlare Flames ci sono scelto qua eccoti eccoti quindi vivere di musica in Italia non è facile però ragazzi vi posso dire che prima di fare il musicista ho fatto tanti altri lavori ho fatto anche l'operario della catena di montaggio ho fatto da ricentralinista ho lavorato come ho anche un diploma come ragioniero ho fatto ragioniero per un brevissimo per fortuna periodo della mia vita perché è una cosa che detesto cioè nel senso che ammiro ogni lavoro è lecito ed è bisogna farlo con il massimo dell'orgoglio perché ti dà la possibilità di sfamare la tua famiglia e di portare del lavoro a casa io vado a dormire che penso ho le note in testa mi sveglio la mattina e ho le note ancora in testa perciò mi capita la mia compagna Ilaria lo sa bene che molte volte mi sveglio nel cuore della notte e lei mi dice ma che cavolo stai facendo guarda devo andare a comporre come è stato per Mameli Rock mi vengono delle idee in testa quindi devo come dico io devo letteralmente imprigionarle all'interno del pentagramma prima che possano prendere il volo devo renderle mie e la mente dell'artista va va contemplata perché è sempre bello poter parlare di come un artista ragiona sia anche non solo in abito musicale anche in campo pittorico piuttosto che scultorico ecco bravo Daniel quello che consiglio anche è di non limitarsi soltanto c'è l'arte bisogna viverla a 360 gradi in generale perciò io ad esempio sono un amante del cinema dei film molte volte ad esempio prima fuori onda parlavamo anche del mio album solista la canzone why che è il singolo del mio disco solista è nata quando ai tempi ci fu l'attentato delle torri gemelle perciò da quello da quello poi avevo visto anche il film che è uscito dopo con Nicolas Cage sono rimasto talmente colpito che ho deciso appunto di fare questa canzone che poi chi vorrà potrà andare a sentire in rete l'album solista è quello che avresti dovuto promuovere con Andy Timmons giusto? allora in realtà sì ce n'è anche un altro che adesso ovviamente essendoci stato il lockdown ho preferito posticipare l'uscita in modo tale che posso tornarci sopra e vedere ancora alcuni passaggi ma in realtà adesso sto mi sto concentrando anche su un altro progetto però al momento non posso dire niente perché se no letteralmente domani Nico di R11 Music mi chiama e mi scomunica ma detto non dire niente perciò niente 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 dai un incipit posso dire che sarà sicuramente particolare sarà molto particolare ovviamente sarà chitarristico però è una cosa diversa dal solito posso dire solo questo metal rock metal un po' di tutto c'è dentro e io Daniel se permetti lancierei un'ultima domanda di Christian che è interessante e poi lascerei andare il nostro Marco lo lasciamo andare a finire di comporre e rivedere le sue cose prima che gli scappi il momento attenzione perché sento scusami sento da sopra che ho scuso Magro che sta distruggendo casa perciò devo andare a capire che mi sta tornando noi ci teniamo che la tua casa rimanga intera anch'io anch'io allora Christian velocemente dice Marco perché all'estero riescono a vivere di musica è colpa dei fan italiani del metal o dei musicisti è una domanda molto è una domanda in cui quello che posso dire è che all'estero c'è una cultura diversa nel senso che c'è la voglia di andare ad ascoltare anche band che non si conosce mentre qua in Italia purtroppo c'è la voglia di andare siamo troppo legati a delle etichette c'è voglia di andare ad ascoltare quello che sai già che ti piace però bisogna anche cercare di dare la possibilità a chi non si conosce di farsi sentire cioè io ho scoperto molte band anche durante i tour che non conoscevo perché appunto mentre stavo suonando magari siamo poi dopo la sera siamo andati a bere qualcosa in altri locali c'erano altre band che suonavano e ho conosciuto degli artisti che normalmente non avrei avuto modo di conoscere perciò la colpa cioè la colpa così si può dire è che è proprio una mentalità sbagliata perché capisco anche sai c'è spesso la diatriba tra musica inedita e tribute band io sono idea che la musica è l'importante che sia fatta bene ovvio che le tribute band che vivono di quello e fanno soltanto questo oggi non possono suonare in giro ci sono come ci sono le band che suonano bene musica inedita ci sono anche le band che suonano bene canzoni di altre anche se non sono non gli appartengono però c'è da dire che l'italiano preferisce andare a vedere di solito delle tribute band invece che dare la possibilità a band emergenti di essere ascoltate appunto come dicevo poi è ovvio c'è anche un discorso un po' più lungo legato alla cultura dell'arte in Italia cioè se pensiamo che noi qua in Italia abbiamo letteralmente lanciato il mondo operistico perché il bel canto italiano è nato qua si va nei conservatori Daniel prima parlavamo fuori onda del conservatorio di Pavia che ho frequentato ci sono un sacco di stranieri in particolar modo orientali che vengono qua in Italia a studiare infatti a tal proposito quando quando è uscito appunto il 17 il brano Mameli Rock sono stato invitato da Marco Garabelli a fare questa intervista su Radio Lombardia Line Rock e mi ha chiesto se volevo suonare qualcosa al volo così ho detto vabbè ok allora ho arrangiato al volo l'area tratta dalla Turandone su un Dorma per chitarra elettrica e l'ho suonata dedicando anche alla mia compagna perché effettivamente è a prendere un mese che non potevo vederla ecco benissimo ragazzi direi che possiamo liberare da questo impegno il nostro amico Marco D'Andrea ricordo la pagina Instagram at Mameli Rock la pagina Facebook Mameli Rock basta cercarlo si trova subito il sito marcodandrea.it con il progetto Mameli Rock e tutti gli altri progetti di Marco Planet Hard progetto solista e via dicendo e l'ultimo rncmusic.it dove il sito dell'etichetta dove trovate i link per la canzone Mameli Rock costa un euro il costo di un caffè che tanto non si può andare fuori a prendere il caffè il ricavato verrà donato al Policlinico di Milano per utilizzi vari la lotta al covid e via dicendo operazione fantastica tanti ospiti mi raccomando andate tutti a vedere il video e acquistate la canzone perché oltre a essere bella la canzone ne vale la pena dal punto di vista morale e per il Policlinico Marco sei stato fantastico grazie davvero grazie a voi grazie a voi ragazzi e grazie a tutti gli ascoltatori mi raccomando stay strong che i momenti brutti come si dice dopo la tempesta c'è sempre l'arcobaleno grande grandissimo grazie Marco dell'intervista grazie a voi ciao ragazzi un abbraccio virtuale ciao Marco ciao bene